ricorda la speranza è una cosa buona forse è la migliore delle cose e nessuna cosa buona muore mai buongiorno comincia il mio blog riprenderò completamente la mia giornata questa la mia faccia quando mi sveglierò, oddio, distrutto adesso ci andiamo a fare la nostra percorazione prepariamo i panchetti ci tengo un pentolino una volta sbatto di una padella versiamo dentro la perfezione a che ora vieni? ok perfetto adesso faccio un po di stretching e allungamento questo qui è un rullo ho preso sempre su proxys passaggiante ottimo per scegliere le contratture per fare stretching e adesso faccio un bel caffettino mi controllo poi arriva il pacco su proxys ho ordinato di arrivare oggi mia sorella è puntualissima chi è? hai detto? no vai apri la bocca no, Alena è là ti fidi? no, Alesta è un secondo me c'avevamo Alena qua si solamente un tappetino e una corda cominciamo il nostro workout 20 minuti di corda terminati 10 minuti di addominali come ti senti? adesso partiamo con un super circuito funzionale buon pranzo riso tonno adesso vi faccio una bella doccia adesso un po' di riposo un po' di relax e sono arrivati due pacchi li scartiamo insieme il nuovo prodotto che vi faccio vedere questa è una cassa bluetooth arrivata su proxys proteine dell'uovo aminoacidi pasticche abbronzanti adesso faccio una bella diretta di allenamento mi collego un abbraccio grande un saluto a tutti i miei colleghi del Valens nella prossima diretta ciao l'ultimo allenamento della giornata cena, pollo e verdure è la capacità di far fronte in maniera positiva agli eventi traumatici di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà è la capacità di ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita ci offre senza mai perdere la propria umanità resilienza attrazione aggiornata nella giornata arré Grazie a tutti.